Questo è un video tutorial per vedere come compilare la domanda per le gradatorie provinciali per le sucrenze e le gradatorie d'istituto. Entrando nel sito del Ministero dell'Istruzione si va all'icona gradatorie provinciali ed istituto. Cliccando su quest'icona si entra in un'area, proprio in una piattaforma, dedita alla compilazione delle domande. Si accede all'istanza e si entra in una pagina dove è esplicata la normativa di riferimento. Si va in fondo a questa pagina e si accede alla scelta della provincia, che deve essere un'unica provincia. C'è un menu a tendina e si sceglie, per esempio, noi andiamo a scegliere la provincia di Reggio Calabria per vedere come si compila la domanda. Facendo avanti andremo in una pagina dove ci saranno tutte le informazioni anagrafiche e controlleremo la correttezza di queste informazioni. Facendo ancora avanti dai dati anagrafici, dalla pagina dei dati anagrafici, si entra proprio nel modello di presentazione della domanda. Come prima cosa è obbligatorio selezionare le gradatorie per cui si partecipa. Dunque si va all'azione dei disponibili e si accede per inserire, per aggiungere la prima gradatoria. Per esempio aggiungiamo intanto la tipologia di gradatoria. Come la persona che sta facendo questa domanda è un laureato, un neolaureato, con un solo anno di anzianità del servizio e dunque è in seconda fascia, per le gradatorie di secondo grado si clicca questo tipo di gradatorie. E poi si sceglie proprio la classe di concorso, per esempio matematica, perché si tratta di un laureato in matematica. Nella sezione A1 si clicca proprio il titolo di laurea e se ne deve dare la data di conseguimento. Per esempio consideriamo che la persona si sia laureata nel luglio del 2019, il 15 luglio del 2019, il titolo della laurea di matematica, anzi in matematica, presso l'università degli studi di Cosenza e poi il voto di laurea, immaginiamo un 106 su 110, che viene poi visualizzato anche in questa parte del sistema e poi deve dire che tipologia di categoria di appartenza ha. Se era inserito precedentemente nella terza fascia di gradatoria di istituto non avrebbe bisogno dei 24 CFU, oppure se ha un'abilitazione specifica su altre classi di concorso non avrebbe bisogno dei 24 CFU, ma se non ha una di queste due opzioni allora ha bisogno del titolo dei CFU. Dunque il possesso dei titoli di cui all'articolo 5,1 lettera B del decreto legislativo 59 e 17 significa proprio il possesso dei 24 CFU. Quindi si può fare, inserisce e compare la prima classe di concorso. Così se ne possono aggiungere diverse altre ripetendo l'operazione nello stesso modo. Speriamo che questo video tutorial sia stato utile per la compilazione della domanda. Seguiranno immediatamente altri video tutorial, quindi seguiteci proprio nel nostro canale YouTube e nel nostro sito www.tecnica.scuola.it Un saluto a tutti i nostri telespettatori.